E' la Slovacchia che prova il primo pallone, è intervenuto Cannavaro, 136 presenze, oggi Cannavaro poi, attenzione a Di Natale che cerca subito la porta, subito il coraggio di Di Natale a cercare la porta da lontano, è quello che vogliamo vedere. Vitek prova a girare, c'è Amsic da solo e sul fondo prima palla importante per la Slovacchia. C'è l'inserimento ancora di Amsic, prova ad andare a Amsic, all'interno c'è Vitek, Marchetti sicuro. Sbaglia però De Rossi dentro il pallone per Vitek e la Slovacchia in vantaggio, ha segnato Vitek. Calcio di punizione per la Slovacchia, una brutta Italia in questi primi 34 minuti. Palla corta, c'è un tiro dalla distanza con Marchetti che riesce ad arrivare all'ultimo momento, ha provato Sturba da lontanissimo. Cerca attraversione Gattusa, prende posizione io quinta e Scartel rischia un clamoroso autogol. Vitek con Chiellini che gli dà fastidio, bravo Vitek a girarsi. Poi il pallone per la conclusione violentissima da fuori, ancora di Kuzka. Guagliarella, buono il suggerimento per Maggio, prende il tempo quasi per il tiro. Poi il suggerimento dentro, Di Natale! È in aria, Di Natale non riesce a colpirla con il destro, se la mangia col sinistro. Eccolo Pirlo, provare a liberarsi, pallone ancora per Pepe che vuole il traversone verso Mucca, che non la tocca! La palla è lì! Guagliarella, salvataggio dentro la porta secondo me! Vediamo e Scartel che va a coprire sulla riga. Dentro la porta, beh, però visto bene, è dentro la porta Scartel! Scartel è dentro la porta, guarda con la gamba sinistra, la prende! Uno contro uno di Anzic, apre dalla parte opposta, rischiamo la vita con Stock, prova ad arrivare Stocko sul pallone. C'è solo Cannavaro, Stocko lo sfida, è pronto al destro, che cirepa sul fondo. Colpo di testa di Chiellini che allontana, fuori dal pallone arriva per Pirlo, palla ancora dentro, Vitek! E buonanotte, 2-0 della Slovacchia. Almeno con l'orgoglio, Guagliarella entra, Guagliarella ancora, vava a passare, c'è Iaquinta, colpo di tocco! Guagliarella la respinta, tocco! Di Natale! Solo un miracolo! Ma 10 minuti! Solo un miracolo! Ma 10 minuti! 10 minuti! Ecco, attraversione, secondo palo, Iaquinta riesce a toccare, poi Scartel, insistiamo con Di Natale in era di rigore, Di Natale dentro il giro! Go! Fuori gioco! Un pizzico davanti con la testa, però, insomma, proprio al limite, un pizzico davanti con la testa. Trova ad arrivare in era di rigore, ancora la Slovacchia! E qui finisce il nostro mondiale. Pirlo, gira per De Rossi, c'è solo recupero adesso. De Rossi rientra sul destro, lo deve provare, ma a quel punto è chiuso, poi riesce a recuperare ancora per Guagliarella la piazza. Fabio! Guagliarella 3-2! C'è solo recupero! Ecco la rimessa lunga, proviamo a spizzarla! Non ci credo! C'è calcio, c'è rimessa nel fondo. Non l'ho sbagliata, l'ho sbagliata Fabio, che occasione, come è andato a calciare questa palla? Insomma, c'è mancato poco alla fine, con Pepe, con questa...